Io qui posso entrare nello slogan con cui il Movis di Vittoria continua la battaglia per l'abbattimento delle barriere architettoniche battaglia che oggi trova l'appoggio del gruppo indipendente per Vittoria e Scoglietti e il consigliere comunale Santo Cirica persino presentato un ordine del giorno. Ci sono molte barriere architettoniche all'interno dei palazzi comunali tanto è vero che ho fatto mettere un punto all'ordine del giorno commissione a setto per la settimana prossima proprio per fare una ricognizione di tutte le strutture e tutti i palazzi con questi problemi proprio per dare una grossa mano d'aiuto a questi ragazzi che più che una mano d'aiuto chiedono solamente i loro diritti. Insomma basta poco per rendere accessibile un edificio pubblico privato e Cirica ha reso accessibile la sua attività commerciale con la sistemazione di una pedana, un gesto simbolico e provocatore allo stesso tempo. Basta veramente poco e quindi è un gesto provocatorio e speriamo che tantissimi altri colleghi, commercianti, artigiani lo facciano perché veramente basta poco superare quella sogna di qualche centimetro per poter avere i ragazzi, il gruppo, il portatore, l'identica proprio all'interno delle proprie attività commerciali e non. Un processo virtuoso che può passare attraverso un piccolo gesto come quello di destinare le 5 per mille al Movis. Profitto della vostra gentile collaborazione proprio per far evolvere il 5 per mille all'associazione Olunus Movis di Vittoria quindi anche questo è un piccolo gesto che sarà un grande aiuto.